Ciao a tutti appassionati di anime manga, sono Alex, come sempre invito a seguimi qui su youtube, su instagram, su twitch e anche in micoteca per stare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione, vi ricordo inoltre di attivare la campanellina per non perdervi ogni mio video. Oggi farò video acquisti prima settimana nel mese di novembre 2023, come tutta la prima settimana nel mese di novembre di tutti gli anni che esce Luca Comics, esce un sacco di roba, è la settimana con più uscite probabilmente dell'anno e quindi tantissima roba, tante novità, tante variant, tante nuove edizioni eccetera eccetera, quindi da questa settimana qua potrò fare un sacco di video extra, quindi relativi a tutte le uscite e quindi aspettatevi giorni pieni di video, settimane intense con un giorno un video particolare, quindi mi raccomando seguitemi. Direi iniziare la svelta perché esce tanta roba, con Beck, nuova edizione, volume 16 e penultimo volume, edito dalla Dean, 12,90€, questa ovviamente è la nuova edizione, è proprio un manga incentrato sulla musica, principalmente musica rock, questa banda giapponese che agli inizi che vuole emergere, vuole sfondare ma gli succedono di ogni, anzi molte persone che cercano di mettere il bastone tra ruote per un motivo o per l'altro, riuscirà il nostro protagonista a sfondare nel mondo della musica perché soprattutto ha una bellissima voce, è abbastanza bravo con la chitarra, certo gli altri componenti del gruppo mai sono più bravi, soprattutto lì sono la chitarra, però ha una bella voce e quello che spicca più degli altri, vediamo, andiamo a vedere come andrà a concludersi, comunque carino, bello. Un altro penultimo volume, quindi il prossimo sarà l'ultimo, a novità Luca Comics esce l'ultimo, dovremo aspettare settimana prossima probabilmente noi, noi che non andiamo, quelli che non vanno a Luca, non lo aspettaranno nella prossima, cioè Gannibal, questo volume 12, edito dalla Icari, prezzo 7 euro, che ve lo dico fa ormai Gannibal, fin dal primo volume è qualcosa di stupendo, i disegni, disegni pazzeschi e mi fermo qua per non rischiare di fare spoiler, ma tanta roba Gannibal, se ancora non l'avete fatto poi siamo ad Halloween, quindi è abbastanza thriller drammatico, fin dal primo volume se mi seguite, se mi seguite quando ci ho fatto il video dedicato, sapete che mi ha colpito fin dal primo volume e quando il volume di livello lo vedi fin da subito, qua davvero tra disegni, trama, personaggi, è un'opera davvero ben fatta, ben costruita, che merita tantissimo. Poi continuiamo con una novità, la Ishi Publishing, cioè Berserf Oglattoni, prezzo 6,90 euro, di cui ho fatto anche una variant, sempre 6,90 euro, la regular e la variant, vi porterò ovviamente il video a riguardo di questo, vediamo un po' lo stile di disegno, ecco, insomma, a vedere così, abbastanza semplice, non ci sono sfondi, quindi spero che la trama meriti, vediamo un po' se c'è scritto qualche parte della trama, spero di sì, ma non c'è scritto a quanto pare, sottotitolo colui che supera i limiti dei livelli, quindi sicuramente abitazione fantasy, stile livellamento, un po' come molti fantasy o Isekai, ecco, quindi trasportato, non so se è trasportato in un altro mondo, comunque quello stile lì, molto simile ai videogiochi, vediamo, mi porterò la prima impressione e vi dirò se merita o meno, ecco, non so davvero cosa aspettarmi e poi vediamo, finalmente è uscito la Omnibus del fiume Shinano, edito dalla Coccolino Prezzo, guardate qua, che malloppo, prezzo 38 euro, guardate qua, finalmente due volumi, uno o tre volumi in uno, anzi, tanta tanta roba, ovviamente di Kazu Kamimura, era l'unico che mi mancava, ambientato nel Giappone al periodo Showa, è un lungo ed emozionante romanzo di formazione al femminile raccontato attraverso gli occhi della sua protagonista, Takano Yukiye, la conosciamo bambina, poi ragazza, infine donna, la scoperta dell'amore, le prime delusioni, la consapevolezza della propria femminità, Yukiye, è un'eroina ribelle e anticonformista, pronta a tutto per discreficare se stessa all'amore, ma cos'è il vero amore? Perché si ama e perché non si può smettere di farlo? Nel corso della sua vita, Yukiye conoscerà tutte le sfumature dell'amore, materno, delicato, brutale, irrazionale, carnale, disperato e dimenticato, amori travolgenti, impetuosi, come le correnti del fiume shinano. Sono davvero curioso perché tutti me l'hanno parlato bene e non vedo davvero l'ora di leggerlo tantissimo. Io avevo già registrato la mia top 30 dei manga seinen, quella che uscirà nel mese novembre, quindi è ovvio che i manga che vediamo oggi non potranno esserci perché l'ho già preparata, l'ho già registrata, così come ho registrato la top dei manga di Kazukamimura, l'avevo già registrata, l'avevo già preparata, anzi quella di Kazukamimura è già uscita, quindi è ovvio che non può essere cambiata. Però è ovvio che queste top non è che sono immutabili nel tempo, magari fra 5-6 anni posso anche rifarle. Quindi vi dico la premessa, ve la dico ora e vediamo. Poi comunque uscirà nel prossimo anno la top 30 definitiva, quindi probabilmente ci saltano dentro, quindi magari sarà diversa rispetto a quella shonen e quella seinen e magari vedete delle posizioni diverse proprio perché dei manga l'ho letto dopo. Vediamo. E sono davvero curioso, anche di questo ovviamente porterò la recensione più avanti, però vedete quanti manga, cioè adesso sono solo due, ma vedrete poi quanti video dovrò fare. E quindi non aspettate che in due giorni li faccia tutti, perché ovviamente li devo leggere anche prima. Poi passiamo a J-POP con The Ryzen Shield Hero 22, prezzo 5,90€ ovviamente J-POP. Uno dei più bevi Zekai che ho letto, che io vedo, c'è in corso la terza stagione su Crunchyroll, quindi se non l'avete letta andate a recuperarla. E sicuramente mi sembra un manga che è ancora abbastanza lungo, cioè che alla fine è davvero lontana, molto lontana. Però Rattalia è sempre Rattalia, lei. Non so quanti voi se ne seguono, se lo state seguendo in manga o se state seguendo solo l'anime, o entrambe o nessuno dei due. Secondo me merita. Continuiamo con J-POP con Goblin Slayer, volume 14, scusate, prezzo 6,50€. Questo manga fantasy molto dark, soprattutto il primo volume era stra dark, e mi ha ricordato parecchio lo stile di Berserk, cioè non come stile di disegno ma come idea, come essere così scuro, così profondo, così dark. Poi dal secondo volume non so se ho ricevuto delle lamentele, ma diciamo che si è un po' più addolcito, tra virgolette, ecco nel senso. Però il primo volume era davvero molto forte come primo volume, io vorrei preferito che continuasse su quei livelli, direttamente. sinceramente, per chi ama il fantasy, sicuramente gli piacerà questo manga. Una delle novità più attese all'anno, DRLC, volume 1, prezzo 12€, di J-POP. Questo nuovo manga di Shinichi Sakamoto, basato sul libro di Bram Stoker, Dracula, e quindi ovviamente ci sarà Dracula, XIX secolo, un'epoca di grande fermento, dato allo sviluppo economico e dalle molteplici innovazioni tecnologiche frutti della rivoluzione industriale. Al porto di Varna, la nave russa Demeter carica estiva dalle inquietanti casse di legno e salpa la volta all'Inghilterra, qual è proprio l'incipit di Dracula di Bram Stoker. Tuttavia a bordo si verificano terrificanti eventi, e la nave finisce con l'arenarsi lungo la costa di Whitby. Mina, Luke e Arthur, Joe e Quincy, cinque ragazzi che frequentano la public school della cittadina inglese, assistono in prima persona alla scena e probabilmente sarà Dracula che si risveglia dalla tomba. Però guardate qua che disegni pazzeschi qua, Dracula di Bram Stoker, che ha disegnato e rivisto da Shinichi Sakamoto, io davvero non vedo l'ora di leggere e questo sicuramente vi porto la prima impressione, anzi probabilmente forse la faccio venerdì questa prima impressione, perché davvero non vedo l'ora di leggere questo e non è uscita solo la regola, ovviamente è uscita anche la variant, questa di DLC, sempre 12€, edizione limitata con doppia confertina Valiant Illustration di Simona Di Meo. E quindi questa edizione limitata davvero io ve la straconsiglio di prenderla, perché davvero merita questa, senza neanche leggere il suo giacchi merita Shinichi Sakamoto, soprattutto questa variant che tanto costa uguale a regular, prendete la prima che esaurisca, perché davvero di sicuro sarà straricercata fra qualche anno questa variant, tanta roba e sono felice e contento di avere preso entrambi, se la regola che la variant, ovviamente la regola la lascerò in tonsa, leggerò, ovviamente la variant la lascerò in tonsa, leggerò la regola. Cominciando un po' più spediti, perché se no dura 30 minuti sto video, poi passiamo a Star Comics con I Cavalieri dello Zodiaco, la nuova edizione volume 6, prezzo 7,90€, questo ovviamente I Cavalieri dello Zodiaco, la nuova edizione, chi non lo riconosce male, molto male, ce l'avevo conosciuti dall'anime, quando andavo in quarta elementare, probabilmente, ecco, che usciva tra l'altro solo il sabato, due episodi di sabato, neanche in settimana, e ecco, e quindi io al manga non l'avevo mai letto, non ce l'avevo, quindi appena uscita questa nuova edizione, non potevo non prenderla io degli anni 90, ma anche degli anni 90, quindi per forza di cose. Poi ancora Star Comics, un volume 2 di Gachi Acuta, questa è la variant, prezzo 6,90€, la regular non l'ho presa, con la sovracoperta, vediamo dietro la sovracoperta, che bella copertina, ci ho già fatto il video, prima impressione di Gachi Acuta, oltre al fatto di essere legora, all'interno aveva questa cartolina, e questi sticker, quindi se vi può interessare, tanto il prezzo è uguale alla regular, quindi anche qui, potete tranquillamente prendere questo, primo volume ci ha mai impressionato, ma ha reso davvero curioso, un incipit interessante, con un power system, basato alla fine sull'immondizia, più che sull'immondizia, sull'amore degli oggetti, e sul fatto del proprietario di questo oggetto, che se lo tiene tanto, da questa legge giapponese, gli oggetti dopo 100 anni, hanno un'anima, soprattutto quelli trattati con amore e con cura, e quindi vi vediamo, questo power system, questo mondo, molto simile al nostro, per certi versi, molto consumistico, che piuttosto che riparare un oggetto, lo getta via, e invece queste specie di favelas, che ogni rifiuto per loro è un tesoro, vediamo, sono davvero curioso di vedere come, come avanti questo manga, e ha delle buone premesse, ecco, il primo volume ha delle buone premesse, e poi vediamo se, vale davvero la pena continuare quest'opera, poi secondo e ultimo volume, di One Piece Episode A, 5,90€, edito da Star Comics, quindi qua, episodi riguardanti solo Ace, Pugno di Fuoco, disegnati da Boichi, e quindi, ecco, tanta roba i disegni di Boichi, non me ne voglia Ciroda, ma Boichi, è di un altro livello, ecco, se One Piece fosse disegnato tutto da Boichi, penso che sarebbe uno dei manga migliori di sempre, cioè davvero, guardate qua, guardate qua che roba, e vediamo come va a continuare, o meglio, la storia su volume 1 è a conclusa, quindi questa è un'altra storia, e vediamo qual è la novità, e penso questi episodi spin-off filler, finito One Piece, cioè la saga principale, finirà fra 3, 4, bassimo 5 anni probabilmente, ecco, lo vedo come il futuro di One Piece, lo vedo come il futuro di Oda, magari, fare in co-abitazione con altri artisti, soprattutto riguardanti il disegno, e fare episodi riguardanti, magari, barba bianca, quando era giovane, e altri personaggi, ecco, per integrare appieno il mondo di One Piece, o i 100 anni di buio, cosa è successo, ecco, quindi, e c'è tanto, ma tanta, tanta roba da dire, io penso che finito One Piece, poi magari, ovviamente spenderà un periodo di pausa, meritato direi, poi secondo me farà queste collaborazioni, con magari un, con cose da 1, 2, 3 volumi massimo, con altri artisti, e questo, io lo vedo questo, il futuro di One Piece, non, non penso che Oda inizi un nuovo manga, perché poi ovviamente faranno tutti i paragoni con quello, e, siccome è anche giusto che, non dico ad impressione, ma perlomeno, inizia a godersi, tutto davvero il successo di One Piece, se vi rendite, sembra brutto, ma, dopo 30 anni di serie, penso che, se lo meriti dopo, poi, passiamo a Iromashima, che anche lui, è a Luca Comics, con Eden Zero, volume 20, sempre a Star Comics, ovviamente, 5 euro e 50, l'ultima opera di Iromashima, siamo già al volume 20, ambientazione, ovviamente, dallo spazio, ovviamente, con poteri particolari, molti personaggi, molto simili, a Fairy Tail, che a sua volta, rave, ma, ne vedremo, le vedremo più avanti, ecco, carino, ecco, per me, Fairy Tail, è decisamente, migliore, a mio secondo punto di vista, forse sarà perché, amo il fantasy, quindi, questo è più fantascienza, che fantasy, però, ecco, per me, Fairy Tail, è migliore, finalmente, nuova edizione, per Rave, The Groove Adventure, 5 euro e 90, volume 1, ovviamente, nuova edizione, della Star Comics, è uscito anche il volume 2, non l'ho preso perché, io, la vecchia edizione, e tengo quella, cioè nel senso, non mi, ho già un sacco di roba, che uscirà, vedrete più avanti, quanta roba, che non avevo, che inizierò a seguire, e non mi sembrava il caso, di seguire anche i Ravid, un manga, comunque, già ho, ci ho già fatto la recensione, che invito ad andare a recuperare, di questo, ovviamente, ti porterò, una prima impressione, riguardo a questa edizione, la nuova edizione, confrontata con quella vecchia, che era, che era quella sottiletta, vediamo, comunque, è un manga carino, è il primo lavoro di Iro Mashima, quindi, è un manga carino, poi sono uscite le Variant, di Iro Mashima, di cui una è Rave, 6,90 euro, sempre da Star Comics, questo, scusate, un euro in più, praticamente, poi è uscita la Variant di Fairy Tail, se vedete, sempre 6,90 euro, sempre volume 1, e la Variant di Eden Zero, sempre 6,20 euro, e fan, vicino, e fa una copertina unica, in pratica, guardate, che bella, è stata una bella idea questa, devo dire, e quindi, ovviamente, sono da prendere tutti e tre, perché, se volete fare la copertina, già ho prenduto e tre, però, è bella, una bella idea, le copertine però, sono completamente diverse, ovviamente, però, messe vicino così, ci sta come idea, e lo trovo davvero, carino e intelligente, e poi, l'ultimo di Iro Mashima, cioè, Iro Mashima, Mashima, Iros, volume unico, prezzo 7,90 euro, dove ci sono dei cameo, tra i vari personaggi, di Iro Mashima, e quindi, i tre mondi, che si uniscono e, confluiscono insieme, i vari eroi, che, girano insieme, vedono insieme, una di queste storie, già l'avevo letta, dieci anni fa, probabilmente, sì, carino, ecco, se vi piace Iro Mashima, se vi piace le sue storie, ovviamente, non potete non prendere questo, perché la vedo difficile, che prima o poi, facciano una ristampa, a meno che non vali davvero bene, però, quindi, se vi piace Iro Mashima, dovete per forza, prenderle, e ora, passiamo al bel maloppone, della Planet, che, davvero un sacco di roba, è anche bella, pesante, con Yu-Gi-Oh! Complete Edition, volume 8, prezzo 14,90 euro, ovviamente, Yu-Gi-Oh! mai lo sapete, penso che lo conoscono tutti, il gioco di carte Yu-Gi-Oh! quindi, io l'ho conosciuto prima dall'anime, poi, poi sono arrivati anche il gioco di carte della Unitalia, e niente, quindi, ecco, è essenzialmente Yu-Gi-Oh! tranne l'inizio, che non è solo il gioco di carte, per i volumi, poi, adesso, è solo il gioco di carte, famosissimo, ecco, quindi, per forza di cose, bisognava prenderlo, novità, della Planet, Showa a Shoten, prezzo 7 euro, ovviamente, è il volume 1, Azenichi, Shima, Etaio, Higanashikata, il primo ha un notevole senso dell'umorismo, ma è timido, un livello fuori scala, il secondo non sa ideare, sketch divertenti, ma sul palco è fenomenale, riusciranno a spuntare come duo comico, quindi, vediamo, faccio dire magari un po' lo stile di disegno, e porterò sicuramente, anche di questo ovviamente, la prima impressione, così, ci facciamo tutti un'idea, se vale la pena, che manga sia o meno, vediamo, e vediamo uscirà, ecco, come vedete, tanta roba che uscirà, tanti video che devo fare, come ho già accennato, quindi, con calma usciranno tutti, quindi, se non volete perdere, oltre attiva la campanellina, e seguimi su Instagram, seguiti anche su, su gruppo Telegram, perché così vi arrivano, io ho direttamente il link sul gruppo, e non rischiate di perderveli, vi trovate lì, se magari non riuscite a vederlo in quel momento, potete vederlo anche il giorno dopo, due giorni dopo, e quindi, è più comodo anche per voi, detto questo, sono sempre disponibili, su Instagram, quindi se volete chiedermi qualcosa, o chiedermi un link, di un video, di un manga specifico, io poi ve lo mando, variant uscita da Planet Manga, la variant di Death Note, ovviamente volume 1, prezzo 7 euro, bella il rilievo, è più bella questa, secondo me, di quella della Steelbox, non so, ditemi la vostra, comunque ecco, variant, poi Death Note, non potevo non prenderla, la variant di Death Note, come non potevo prendere, non poter prendere la variant, di Asadora, volume 1, 7,50, della Planet, a Lucca Comics, è possibile, la variant, disegnata da Urasawa, perché Naoki Urasawa, è a Lucca Comics, quindi, solo lì, e una coppia a testa, e se nel caso, dovesse avanzare coppie, ma la vedo difficile, saranno disponibili, in seguito, sul sito della Panini, non penso, che facciano, altre tirature, anche se fosse, la Planet, quanto ama i soldi, penso, che faccia finta, che gli sono avanzate, qualche coppia, un po', e le rimette in vendita, magari a un prezzo, leggermente più alto, e così ci guadagna, ancora di più, che non fa male, nel tetto tra noi, perché, perché se uno, può andare a Lucca, perché non dovrebbe, avere la possibilità, di reperirla, sinceramente, va bene, poi continuiamo, con l'altra variant, di Naoki Urasawa, e sto parlando di Pluto, 7,90 euro, volume 1, che praticamente, è uguale, alla variant, è solo, sbrilluccicò, in pratica, non cambia, quasi nulla, cioè, è più argentata, e basta, 7,50 euro, la regola, 7,90 euro, la variant, meno prezzo, più non è rimasto invariato, cioè, c'è davvero, c'è scritto, solo Celebrity Edition, dietro, che è davvero, quello che vi fa capire, che è una variant, ma poi, non cambia di molto, cioè, nel senso, è più sbrilluccicosa, l'ho presa, perché, quando è uscito, l'annuncio, l'ho presa, ma, facciamo vedere, la copertina, qual era, quindi, vabbè, purtroppo, poi, finalmente, ecco qua, il cofanetto, di Willibat, i primi 5 volumi, prezzo, 37,50 euro, il cofanetto, ovviamente, ci sono anche i volumi sciolti, vi porterò a prima impressione, il primo volume, quindi, leggerò il primo volume, poi vi porterò a prima impressione, a 7,50 euro, a volume, e, davvero, cioè, qua, lo tratto, lo sto usando, trattando, come se fosse una bibbia, cioè, davvero, coi guanti, perché, davvero, lo aspettavo da tanto, Willibat, ovviamente, i segni di Naoki Urasawa, non dico nulla, non vi dico nulla, se siete curiosi, aspettate il mio video, a riguardo, e, davvero, non vedo l'ora di leggerlo, altra, ristampa, una nuova edizione, una nuova edizione, di Yawara, volume 1, nuova edizione, prezzo, 15 euro, sempre di, sempre di Naoki Urasawa, e questo, è uno spokon, basato sul judo, è il primo vero manga, che l'ha reso celebre, Naoki Urasawa, quindi, proprio questo, è gli albori, anche i disegni, infatti, non sono proprio così puliti, si vede già al tratto, ma non è proprio così, ehm, così pulito, come quello che conosciamo adesso, ovviamente, pre volume, io mi aspetto che, andando avanti, comunque migliore, e assomiglierà sempre di più al tratto, che mai conosciamo del maestro, e anche questo, vi porterò alla prima impressione, perché, saranno tanti volumi questi, e tanti, ma tanti, 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 quindi, e poi, riguardo a Yawara, i Jigoro, sempre stesso formato di Ultimate, della X Edition, prezzo 15 euro, volume unico, ehm, lo spin off di Yawara, riguardante i Jigoro, cioè il nonno della nostra protagonista, ovviamente questo, aspetterò a leggerlo, cioè, lo leggerò, ehm, probabilmente, non prima di metà, oppure, anche se, eh, dovrebbe essere un prequel, della serie, però sicuramente aspetto, di leggere Yawara, prima di leggere questo, eh, perché secondo me è più giusto così, eh, e questi sono quelli di Naoki da Sawa, ma, la planet non è finita, e vediamo, Icaru no Go, uno, la nuova edizione, prezzo 15 euro, disegni Takeshi Obata, e niente, è uscita anche l'edizione di Backman, che non faccio, perché ho la vecchia, e non me la sento di prendere pure quella, eh, così tanto per, però vi farò questa, una, un cosa ne penso, anche di, una prima impressione sia, di questa edizione, ma anche dell'opera, perché non l'avevo mai letto, e quindi questo ovviamente la faccio, quindi, avete la prima impressione, se riguardante all'opera, che riguardante ovviamente, a questa edizione, quindi vedete quanta spesa, quante novità che sono uscite, quanti video devo fare, quanta roba seguo, quindi, devo stare attento, ma, ma, ma non è finita, ed è uscito anche, Berserk Deluxe Edition, volume 5, con la nera arte qua, il mallopone, la bibbia, prezzo 50 euro, come ormai sapete, 50 euro, Berserk Deluxe Edition, sto sperando che stavolta, non ci siano errori, perché davvero, se no, mi incazzo, e ecco, sono curioso di vedere, cioè curioso, lo so già a memoria, Berserk, so già cosa mi aspetta, e quindi è una B, sapete quanto amo Berserk, ma penso che tutti amano Berserk, le ultime tre cose, dei ristampe, che non me ne arrivate, settimana scorsa, che però erano settimana scorsa, tracce di sangue, 8, 9, e 10, edito da Planet, prezzo 7 euro, e mi mancava, non mi erano arrivate, quindi queste sono le altre tre, che erano uscite, detto questo, vi ringrazio, e se il video è piaciuto, ma anche no, mi raccomando, mettete like, iscrivetevi, e condividete, commentate, perché così mi aiutate tantissimo, noi ci vediamo ai prossimi video. e se vi è piaciuto, Grazie.